buon pomeriggio ragazzi eccoci qua sono Michele grazie a tutti quelli che apprezzano i miei video e anche a quelli ovviamente che si sono iscritti vi ringrazio questo mi aiuta ancora di più a se già ce ne fosse mai stato bisogno a fare qualcosa sempre dove posso per risolvere questi piccoli problemi insomma non sono chissà che problemi ma per chi fa modellismo o altre passioni se c'è qualcuno da andare a vedere come faccio tante volte io che ci può risolvere un problema o aiutarci fa piacere quindi vi ringrazio nuovamente questo brevissimo video per farvi vedere una cosa molti di voi avranno notato questo qua questo l'ho già messo a posto vedete che qui combacia perfettamente come anche di qua mentre invece può capitare che seppur vi impegnate più di tanto a cercare di farlo combaciare non succede come in questo caso vedete e allora che cosa faccio io vi faccio subito vedere scusate ho messo a scaldare un utensilio una punta di un cacciavite piatto adesso aspetto solo che si scaldi un po vi faccio vedere molto semplice io non metto le colle non metto colle perché potrebbero cristallizzare la plastica negli anni e spaccarlo e come ho detto già prima e penso che sarete tutti d'accordo con me questo è un gran bel modello e per quello che è costato seppur li vale tutti sottolineo a parere mio ci deve durare vi faccio vedere una cosa intanto apro qua mi allontano un attimo che vado a prendere il cacciavite sul fuoco ragazzi voilà allora questo è il cacciavite voi chiaramente fate quello che prendete quello che più vi si aggradi per questo lavoro tenete premuto qua dove qua all'altezza chiaramente dei pussois dei pernetti di plastica vedete questo qua dorato per capirci lo premete lui esce fuori nel momento in cui esce fuori ovviamente schiacciate più che potete allontanate le dita sennò vi bruciate aspettate che sto cercando di con una mano con due si dice ma con una mano ecco qua allora vado sopra mi avvicino un po e tengo premuto lui si allarga e poi non lasciate subito ovviamente ragazzi è perché adesso lui ancora è caldo e deve raffreddarsi quindi lo tenete premuto ok stessa cosa no di qua non c'è perfetto andiamo a fare anche questi due qua vediamo se ancora caldo il pussois schiacciate forte più che potete vedete qua lui torna indietro non so se si può notare comunque allora tenete premuto anche qui vediamo se è caldo ancora il cacevite sì tenete sempre ragazzi un po non rilasciate subito se non ritorna indietro e poi avete risolto nulla poi anche questi due la stessa cosa insomma è molto semplice ragazzi non vi bruciate soltanto ovviamente vedete e poi in ultimo centrale vedete per il punto lui si allarga chiaramente si espande all'interno ecco qua vedete non lo fate diventare rosso il cacciavite ragazzi se no vi fumate la plastica non lo fate diventare rosso piuttosto scaldatelo più volte mi raccomando è ovvio se prendete una cosa più grande riuscite a fare tutte e tre se prendete una cosa sottile chiaramente il caldo va via subito no ok adesso facciamo una prova veloce per l'accoppiamento vediamo un po che è successo beh sicuramente se non sarà perfetto un po meglio lo sarà di sicuro ecco qua questo è l'amasto un po vediamo un po vediamo un po se si può fare qualcos'altro è meglio di prima però un po vabbè accettabile rispetto a come era prima vedete sono perfetti è ovvio ragazzi che io adesso vado a riprendere questo ma figuratevi se non vado a riprendere questo solo che adesso levo il filmato comunque la modalità è quella ragazzi lo fate così e vedete che vedete qua è perfetto ok ciao ragazzi buon pomeriggio e mi raccomando eh se avete non so se avete qualche richiesta da farmi e posso aiutarmi aiutarvi chiedo scusa aiutarvi lo faccio con il cuore poi qualcuno che già mi ha scritto in privato lo sa sono sono fatto così perché nella vita non ce la sapò non ce la si può mai fare da soli ragazzi anche se pensiamo di c'è sempre bisogno degli altri non è brutto non è brutto darsi una mano assolutamente tutt'altra cosa non è bella la presunzione è bella l'umiltà e quello è un traguardo che è auspicabile spero per tutti però sì adesso sto dicendo delle cose che esulano dal fatto di iron man però è un fatto importante cioè non ci si deve arrabbiare sui gruppi come purtroppo molte volte si legge dispiace dispiace perché poi alla fine non ci si conosce ci si scrive su delle con delle tastiere su dei monitor su dei display di telefonini e alla fine si arriva anche a litigare senza neanche conoscerci ed è assurdo non vi sembra strano io sono certo che di persone invece queste cose per noi appassionati non succederebbero quindi ragazzi comunque mi raccomando e boh ho delle pause un po lunghe me ne rendo conto va bene ragazzi grazie dell'attenzione buona giornata ciao